Perché abbiamo fatto questa specie di sigla? Perché questo è il primo passo che normalmente avviene in ospedale, di riconoscimento, di individuazione della persona. Cittadino, persona soggetta di diritti e di doveri, che non può essere visto solo come paziente o con assimmetrie di rapporti tra professionisti, pazienti, fornitori, volontari, eccetera. E quindi abbiamo pensato di sviluppare questo concetto di più valore per il cittadino, perché un ospedale, un'azienda come la nostra non dà solo valore ai pazienti per l'attività sanitaria, che è sicuramente la prevalente, ma lo dà in un contesto sociale, organizzativo. E come dà questo valore? Nel fornire servizi sanitari, ma anche nello sviluppare il know-how, nell'essere parte economica significativa, 500 milioni di euro il bilancio in questa azienda in un territorio importante ed articolato. Grazie all'università, nel collaborare alla formazione dei professionisti del futuro, nel coinvolgere la cittadinanza nel volontariato, che poi viene sviluppato non soltanto in ospedale, nella città, nel territorio, nel mondo. E essere, non ultimo, ambasciatori sanitari anche nel mondo, sempre in collaborazione con l'università. Ma perché cittadino? Quali sono le sfaccettature del cittadino? Di volta in volta, e in alcuni casi anche contemporaneamente, paziente, professionista, familiare, professionista in formazione, volontario, fornitore, partner. E allora abbiamo voluto e con voi proviamo anche a sviluppare un po' questi concetti nel vedere l'ospedale come un qualcosa che non è solo legato al momento in cui c'è il bisogno, ma che fa parte complessiva della nostra vita dall'inizio, come abbiamo visto quasi sempre inizia in ospedale, alla fine, qualche volta prima nelle fecondazioni assistite e qualche volta dopo nelle donazioni d'organe. E allora, leggendo l'ospedale in quest'ottica, ho chiesto ai due riferimenti istituzionali degli eletti dai cittadini nel nostro territorio, il sindaco Bitonci che non ha potuto essere presente e quindi chiamo qui la presidente Pietro Grande del Consiglio Comunale e il presidente Boron della quinta commissione per alcune considerazioni viste da fuori, viste da chi come eletto i cittadini guarda la sanità e guarda la nostra azienda. Prego. Sì, grazie. Buonasera a tutti e bentrovati. Appunto intervengo su delega del nostro sindaco Massimo Bitonci per portarvi naturalmente i suoi saluti. Sono particolarmente lieta di essere presente quest'oggi, in questo momento credo veramente di importante confronto e di dialogo fra l'azienda e i cittadini. Cittadini che, come ci ha appena ricordato il direttore generale, sono non solo utenti, fruitori, pazienti, ma sono anche coloro che lavorano, che si impegnano nella cura e nella tutela della persona. Sono anche coloro che interagiscono a livello economico e che realizzano l'interesse della città. In un tutt'uno, con l'azienda ospedaliera che rappresenta da sempre un'eccellenza patavina, un'eccellenza che in sinergia con l'università ha portato Padova ad essere la capitale del Veneto, della sanità. E proprio in questo senso l'amministrazione è a fianco all'azienda ospedaliera e intende collaborare sempre più per ottenere i risultati e per contribuire a mantenere l'eccellenza raggiunta. Centrale sarà naturalmente nei prossimi anni la realizzazione del nuovo ospedale, che contribuirà necessariamente a rafforzare questo ruolo fondamentale di Padova all'interno del Veneto. E dunque con grande fiducia e ringraziamento per il Direttore Generale per aver offerto ai cittadini la possibilità di confrontarsi e di verificare l'aspetto più umano dell'azienda ospedaliera. Quell'aspetto che cura il paziente come persona e non solo come malato. E che quindi mette il ruolo centrale del paziente e della persona in tutti i suoi aspetti e quindi contribuisce a migliorare la qualità di vita di tutti noi. Grazie. Grazie per aver colto lo spirito. Due parole, lo invito il Presidente Boron che ho strappato da altri impegni e so che dovrà lasciarci, ma intanto un ringraziamento di essere qui e due considerazioni anche da parte tua. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente il Direttore per l'invito e per questo incontro, perché è un momento in cui si parla di un aspetto importantissimo della città di Padova, che è l'ospedale, che è l'azienda ospedaliera, che ovviamente fa la sua parte, cioè quella di intervento, di cura del malato, però è un punto di eccellenza di cui la città si giova, di cui la Regione Veneto si esalta. Quando andiamo in giro nel mondo abbiamo l'eccellenza padovana nella sanità. E mi fa piacere vedere qui davanti il Rettore, il magnifico Rettore, con il quale ci siamo confrontati anche nell'ultimo periodo, perché Padova sia e rimanga sempre un punto di riferimento nella sanità veneta nazionale ed internazionale. Su questo è una scommessa che ci abbiamo fatto. Oltretutto abbiamo il consigliere Barison, con il quale collaboriamo, perché è un padovano anche lui, quindi anche a lui dovete chiedere le cose, non sempre solo a me, con il quale collaboriamo in Regione. e cerchiamo di dare sempre centralità a questo territorio. La sanità, detto giusto il Presidente Pietro Grandi, mi ha anticipato, non è solo curare un malato, ma è dare vicinanza. L'aspetto umano nella sanità è principale. Tutti noi, prima che essere direttori, che essere politici, che essere dirigenti universitari o di azienda, siamo cittadini che frequentano le cure sanitarie che diamo. Quindi mettiamo sempre davanti, quando facciamo il nostro intervento, e su questo lei direttore ha dato prova, mettiamo sempre davanti che i primi adesso curati siamo noi stessi e così potremo ottenere sempre il massimo e dare il massimo. Vi ringrazio e avrete cose più interessanti da vedere che ascoltarmi. Quindi buon giornata a tutti, grazie. 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 Grazie anche per queste testimonianze, perché c'è bisogno di sentire la vicinanza di tutti i livelli anche decisionali attorno a una realtà così complessa.